Il messaggio è anzitutto un messaggio di gratitudine per il servizio che la stampa fa nel nostro territorio, lo dico non solo per la stampa in genere ma per la nostra stampa e quindi l'incontro di oggi per me è occasione per dire grazie, l'ho detto anche per come mi ha accompagnato nell'inserirmi nella nuova diocesi. Il Vescovo della diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro Andrea Migliavacca ha incontrato la stampa locale in occasione della ricorrenza di San Francesco di Sale, patrono dei giornalisti. La stampa ha un grande ruolo nel servizio della comunicazione, dell'annuncio, nella ricerca e nella promozione della verità, nella libertà e nella condivisione di storie, storie di vita perché a volte la cronaca racconta i grandi eventi ma ci sono storie di vita quotidiane che non possiamo perdere e la stampa lo può fare. E poi le nuove emergenze da affrontare. A volte semplicemente prospettare soluzioni non risolve e invece camminare insieme, condividere può aiutare a sostenere un cammino che oggi vede molteplici difficoltà, partirei dalle difficoltà di carattere economico che non sono solo macroeconomiche ma è la vita delle famiglie, è l'ampliarsi di realtà di povertà diffuse anche nel nostro territorio. C'è l'emergenza legata all'ambiente che chiede una vera conversione, tra un po' inizieremo la quaresima, ci sono tanti ambiti di conversione, c'è anche la conversione ecologica e di impegno nel costruire comunità energetiche e nel rispetto dell'ambiente. C'è l'emergenza oggi della costruzione della pace. L'incontro è stata anche l'occasione per presentare le celebrazioni della Madonna del Conforto. Quest'anno la messa delle 10.30 sarà preseduta dal cardinale di Siena e Montepulciano, il cardinale Paolo Lo Iudice. Sono molto contento che venga e lo ringrazio e ci aiuterà a rendere bella nella preghiera solenne la nostra festa. E poi per me vivrò con un po' di curiosità perché è la prima festa che vivo nella sua pienezza dalla novena fino alla celebrazione del 15 febbraio. E quindi sarò, lo dico così, vescovo e pellegrino, vescovo e fedele in cammino per mettermi sotto lo sguardo di Maria.